Pur con tutti i suoi limiti, il sistema sanitario italiano è uno dei migliori a livello europeo. Dal punto di vista odontoiatrico, però, quando ci troviamo a dover fare delle cure molto specifiche, quindi molto costose, ci troviamo nell'impasse che lo Stato non passa le cure. Siamo con il dottor Palmas, che è un odontoiatra che lavora in Moldavia da ormai otto anni e a cui chiedo perché avviene ciò. Il sistema, il modello sanitario pubblico italiano ha una storia dove all'interno non era contemplato l'odontoiatra. C'era il medico di base, provate a immaginare oggi il medico di base a pagamento. L'odontoiatra come specializzazione nasce dopo, prima c'era il medico di base che tirava i denti, poi quando si sono iniziati a fare ponti, capsule e impianti dentali, quelle cose probabilmente non c'erano nelle voci del sistema pubblico. La verità è che costano veramente poco questi materiali e se noi vediamo la professione odontoiatrica come qualcosa che debba essere fatta non per professione ma per vocazione, vedo che stona un pochino andare a chiedere dei soldi al malato quando si trova in stato di malattia. La verità è che un sistema pubblico dovrebbe essere ricostruito, ripensato, rivedendo tutte quelle che sono le nuove specializzazioni negli anni venute fuori, nuove tipologie di cura e inserite all'interno di un sistema, di un piano di salute pubblica che parta dalla prevenzione. Senta, dottor Palmas, lei come diceva lavora in Moldavia, ha viaggiato moltissimo in tutta Europa, in tutto il mondo. Qual è, secondo lei, il sistema sanitario migliore? Sistema sanitario migliore è un sistema che obbliga il cittadino a fare la prevenzione. Questa è quella che la cultura, per esempio, è in Germania. Ti danno un certo range di terapia ma sei obbligato ogni sei mesi ad andare a controllo oppure perdi l'assicurazione. In Italia sarà possibile ottenere questo tipo di... Io penso che l'Italia sarà la locomotiva del nuovo sistema pubblico in tutta Europa o anche in tutto il mondo.